Una perizia cinematica per capire l'esatta dinamica dell'incidente che ha costato la vita al 25enne Adrian Jacob è quella richiesta dalla PM Giulia Maggiore della Procura di Arezzo per fare chiarezza sul drammatico frontale che avvenne lo scorso 12 aprile lungo la regionale 71 a Santa Mama. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale il conducente dell'altra vettura coinvolto nel frontale Aretino 72N e proprio ieri il Pubblico Ministero ha nominato un consulente tecnico per effettuare l'accertamento che oltre a chiarire la dinamica dello schianto potrebbe individuarne le cause e quindi anche attribuire le eventuali responsabilità. Una decisione è quella del sostituto procuratore di accertare fino in fondo i drammatici fatti accolta con particolare favore dai familiari di Jacob spiegano i consulenti che stanno assistendo i genitori del giovane. La stessa società metterà a disposizione un proprio esperto cinematico come consulente di parte per partecipare alle operazioni peritali.